Ecco vedi c'è covata, allora se c'è covata lo metti in seconda posizione così qui c'è covata anche qui metti vicino questo che si è covata sono leggeri vedi che scorpe rispetto a quelle la di prima non ce n'avevano così questo qua c'è covata fresca cioè l'uola di posizione questo c'è covata anche questo quindi per non spaccare la covata se non c'era la covata se c'era miele qui il poliucelo lo mettevi qui guarda dove c'è covata mettiamo uno e uno due poi vai a prendere il mio trittore le mettiamo tutte su 8 non di più il trittore le metti qua copri i fau questa qui la metti davanti qui per non sbatterla forse il giacattivo è così le mettiamo davanti così ma te sai cosa c'è nella lecca